Aumentano quasi tre volte tanto rispetto all'anno scorso gli incendi boschivi in Sicilia, roghi per lo più dolosi come testimoni alla contemporaneità delle fiamme appiccate in diversi punti. Dall'inizio della stagione estiva, nell'isola, per fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza, sono stati 7.889 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 5.474, ossia il 44% in meno. I dati sono della direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Ogni giorno in Sicilia sono stati impegnati in media 500 uomini e 208 mezzi, prevedendo anche l'uso dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Catania. Rispetto allo scorso anno ci sono stati oltre 2.400 interventi in più che hanno riguardato 913 ettari di boschi a fronte dei 371 dello scorso anno e 11.801 di superficie non boscata. Nel 2011 erano stati 5.806. Tra le province più colpite ci sono quelle di Caltanissette e Trabani dove si sono registrati rispettivamente oltre 1.400 e 1.100 interventi dei Vigili del Fuoco. Un vero e proprio bollettino di guerra da fronteggiare con risorse sempre più limitate. Nel 2011 infatti gli uomini impegnati a spegnere i roghi erano 609, mentre quest'anno il numero di pompieri disponibili è stato pari a 565. Le giornate più impegnative di questa rovente estate sono state quelle del 4, 5 e 6 agosto scorsi quando i pompieri hanno dovuto fronteggiare il rogo della riserva naturale dello Zingaro nel Trapanese con l'evacuazione di circa 900 ospiti del villaggio Calampiso di San Vitolo Capo. Negli stessi giorni interventi anche nel Messinese per recuperare un forestale rimasto gravamente ferito dopo essere precipitato in un burrone per spegnere un incendio e a lingua glossa nel Messinese dove i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri hanno tratto in salvo 30 scout. A Palermo invece a tenere impegnati per diversi giorni i Vigili del Fuoco è stato il rogo nella discarica di Bello Lampo divampato il 29 luglio.